Da sempre l'uomo sente la necessità assoluta di muoversi e soprattutto di muoversi in una direzione ben precisa e noi sul concetto di movimento abbiamo creato la nostra azienda. La nostra storia, come quella del Made in Italy, ha imposto uno stile fatto di creatività, di passione e di qualità. Le nostre ruote sono come le lancette di un orologio, girano lentamente ma possono andare molto lontano, rotolando verso il futuro. In il nostro domani immaginiamo grandi traguardi perché non dobbiamo solo agire ma anche sognare, non solo progettare ma anche credere. Nel nome della nostra azienda ci sono impresse le nostre origini. OGTM è l'acronimo di Ficine Giovanni Trevini Milano. Infatti dietro ogni impresa di successo c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. Giovanni non si è mai fermato e dal 1960 è iniziato un cammino che ha attraversato più generazioni. Oggi alla guida di OGTM c'è il figlio Ruggero insieme alla consorte Marilena che con i propri figli Elisa e Daniele hanno continuato il sogno e creato un grande team. Solo pochi individui sono così grandi da pensare al bene comune prima che a se stessi, come in una grande famiglia. Grazie a questo concetto l'azienda ha ampliato progressivamente i propri orizzonti, passando da una realtà artigianale ad una dimensione internazionale, dove è accreditata tra l'elite tecnologica, una posizione confermata dai numerosi brevetti mondiali. La nostra mission è realizzare prodotti capaci di durare nel tempo, puntando a realizzare qualcosa di eccezionale, perché per noi la perfezione non è un semplice dettaglio. Prima viene il pensiero, poi l'organizzazione di quelle idee in progetti, fino alla trasformazione di quella visione in realtà. Ogni modello è costruito con il miglior rapporto possibile tra estetica e funzionalità, seguendo un percorso virtuoso che trova conferma nelle numerose certificazioni internazionali. Nel mondo di oggi c'è abbondanza di tecnologie, di imprenditori, di idee. Quello che scarseggia sono i grandi team. Le nostre strategie aziendali hanno creato i presupposti per instaurare strette collaborazioni con le più prestigiose aziende d'arredamento, con architetti famosi come Vico Magistretti, Antonio Citterio, Adriano Design, Franco Bizzozzero e Giuseppe Bavuso. Oltre a designer di fama internazionale, quali James Irvine e Philip Stark. Il nostro ufficio studi sviluppa ogni anno nuovi prodotti ad alto tasso di innovazione, sottopone le creazioni dei designer ad accurati studi di fattibilità e progetta la meccanica di tutti i componenti. Siamo così in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale e di personalizzazione, con prodotti che si distinguono nel panorama internazionale per l'elevata qualità costruttiva e l'unicità del concetto. I nostri più grandi successi sono nati cogliendo tutte le opportunità e provando a realizzare qualcosa di nuovo. Non finiremo mai di cercare e la fine della nostra ricerca sarà l'arrivare al punto da cui siamo partiti e il conoscere quel luogo per la prima volta, come una ruota che gira all'infinito. O.G.D.M. High Quality Casters. Made in Italy.